I fratelli d'Italia d'accordo con il sindacato? Parzialmente sì, nel senso che fino a quando vige in Italia la libertà vaccinale mettere un lavoratore davanti alla scelta tra il lavoro e il Green Pass francamente è odioso. O il governo veramente rende i tamponi gratuiti o se no il Green Pass è uno strumento di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Come abbiamo sempre detto ed è il vero motivo per cui noi siamo contrari a questo provvedimento. La verità è che nel governo ci sono divisioni circa l'obbligo vaccinale perché lo Stato non vuole assumersi le responsabilità circa le conseguenze eventualmente degli effetti collaterali del vaccino e quindi non vuole invertire quello scarico di responsabilità che in questo momento c'è quando tu ti vai a vaccinare perché in questo momento è così, non c'è un accordo sull'obbligo vaccinale all'interno della maggioranza, c'è una divisione e allora quello che fanno è scaricare la mancanza di questo accordo sui cittadini e questo è inammissibile. Esiste la libertà di vaccinarsi o meno? Questa libertà deve essere rispettata e non si può mettere un lavoratore davanti alla scelta o il Green Pass o rinunciare al lavoro. Se così è, il tampone deve essere gratuito. Rizzo? Ma io ho visto questa...